Grazie a tutti. 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 No, you're not a child. Andrew is a child. Am I your wife? You're my wife and I'm your husband. Am I at home? Am I home? You're at home. And you're making so? So, that's right. Is Jane Australian? No, she's not Australian. She's English. And Andrew. And Andrew. Is he Australian? No, he's not Australian. He is English. So, she's not Australian. So, she's not Australian. So, she's not Australian. So, she's not Australian. She's not Australian. So, 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 she's not Australian. No, I'm not Australian. She's not Australian. 3.000 stopi ili 10.000 metri aletimo sa proseccion brzinom od oko 940 kmhs temperatura okolnog zraka na ovoj visini je minus 52 stupnja celsius ili fahrenheit Hvala 100 100 100 100 100 Sì, 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 sì. Sì, non ho visto, non ho visto. Ho scopriato, ho scopriato, ma penso che non sono più di fare il video. Con queste tre anni ho conosciuto che è stato un figlio, un figlio, un figlio, un figlio e un figlio. E per questo ho deciso, perché mi sono piaciuto, è deciso di farlo da parte da l'Università. È difficile di imparare il mio domo, questo mese, con il mare, il brazzo. e ho studiato in Jugoslavia ma tutti sbagli per se sreće e per questo per la sua srecia un altro che mi ha visto e mi credo che siamo che siamo davanti che siamo davanti l'imitore mi è piaciuto anche per la sua scuola mi sono conosciuto il suo carattere e anche se non vediamo che ci siamo davanti che ci chiamo il nostro corso... Sì, mi ha parlato il capitan, il nostro corso da Karaccia si è arrivato a Bumbaya poi a sull'indica dell'intra Madras e sull'indica dell'ocheana il sud del Mengalo poi a sull'estero Sumatra si passiamo a Malai's poloostrava e sull'Empore, al'Empore e al centro di Valai's poloostrava Sicapur La mia vita è molto pesante Sono 17 anni quando sono arrivata e 5 anni siamo arrivati in marco e ora siamo diventati Sreće non ho fatto, non ho deciso di venire. Io ho aspettato che mi sarà meglio. Che ho avuto un buon lavoro. Che ho più vivere. Che ho saputo chi mi comprende, chi mi protegge. Ti ho detto che sicuramente se non puoi vivere, sicuramente non puoi vivere. E così ti ho deciso di venire. Sì. E voleva, quando aveva la possibilità di acquistare una farmata coni. E questo mi è una cosa. Buongiorno, la capitana avionata. Il terzo del nostro paio è Jugoslavia, l'Australia. E' da Singapore per Sidney. Come sono già state 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 state. E in Australia, we're going to fly a un posto che si chiama DERBI. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.